Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Antonella Fiordelisi era appena tornata a Roma dopo un evento a Parigi, quando, in stazione, è stata avvicinata da uomo ubriaco, che aveva in mano una bottiglia rotta. Per fortuna, è venuto subito il tassista. Non mi ha fatto nulla. Ero sola, non è la prima volta che mi succede. L'ultima volta, a Milano, un altro pazzo sotto casa. In questi giorni, Antonella ha incontrato alcune fan durante un evento e ha scritto su Twitter, grazie a tutti per il sostegno di oggi. Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi. Soltanto poche ore dopo, però, l'influencer è tornata per salutare definitivamente Twitter. Troppe cattiverie qui. Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene. Addio Twitter. L'addio di Antonella Fiordelisi ha suscitato reazioni di ogni tipo. Brava Antonella, non sono cattiverie sono consigli di chi realmente ti vuole bene.